buongiorno a tutti amici qui eccoci a mare ok oggi mi do il buongiorno così dopo un bell'acquazione finalmente ha fatto un bell'acquazione adesso infatti l'aria freschetta anche se io vado in buchini però sto godendo non fa freddo comunque è bello è bello bellissimo mi godo un po di fresco perché ho sofferto molto il caldo quest'anno speriamo che non torna più quel caldo così se fa caldo va bene perché è stata ancora però sono d'accordo però non tanto va bene allora sono arrivato al mare eccomi qua non mi dirigo metto il primo lido aperto che ancora è presto saranno per me le sette e mezzo c'è già un po di gente in spiaggia comunque è bella bella questa l'aria adesso continuo io ora mi appassionata eccomi qua ci siamo dopo al bar ciao e comiamo al barro il primo lido che trovo aperto io quando vengo la mattina il primo lido che trovo anche dopo casa mia ok e niente il caffè mi aspetta anche il primo della giornata anche se mi altro presto però il caffè lo prendo poi dopo ok comincia la giornata sempre con acqua limone e zenzero ok niente io con ciò vi voglio augurare una buona giornata ciao ciao a tutti un bacio e un bacio alla lina ciao al prossimo video